Ciao tifosi del Milan! Siamo qui per portarvi una notizia esclusiva che vi farà battere il cuore. Il nostro amato Milan è sempre alla ricerca di miglioramenti per raggiungere grandi risultati, e le notizie sul mercato sono davvero entusiasmanti. Prima di tuffarci in questa notizia scottante, non dimenticate di lasciare un like per dimostrare il vostro amore per il nostro club e, se non siete già iscritti, non perdete l'occasione di entrare a far parte della nostra community premendo il pulsante di iscrizione e, attivando la campanella per non perdere nessun dettaglio. Il Milan spera ancora di chiudere la finestra estiva di trasferimenti con l'ingaggio di un attaccante, secondo quanto riportato, e l'obiettivo numero uno è emerso. Secondo Pianeta Milan, la dirigenza potrebbe chiedere il prestito di Lorenzo Colombo e ingaggiare un sostituto che offra maggiori garanzie, come rimpiazzo di Olivier Giraud, visto che Nouakafor è un tipo di giocatore molto diverso. Nel panorama del mercato in continua evoluzione potrebbe presentarsi un'opportunità come Medi Taremi, che nella scorsa stagione ha collezionato 31 gol e 14 assist in 51 partite con il Porto, o anche Romelu Lukaku, che potrebbe diventare un'opzione di prestito con diritto di riscatto. Il terzo nome è quello che piace di più al Milan, Benjamin Eko. Il centravanti sloveno si è trasferito a gennaio dal Salisburgo all'Ipsia, entrambi club Red Bull, per 24 milioni di euro, ma si è aggregato solo il primo luglio. Nella scorsa stagione in Austria ha segnato 18 gol e fornito 4 assist in 41 partite. Tuttavia, potrebbe essere lasciato partire immediatamente perché Timo Werner e Lois Openda sono davanti a lui nell'ordine di importanza. È stato fissato un prezzo di partenza di 30 milioni di euro. Ora la palla passa a voi, tifosi. Cosa ne pensate della possibilità che Medi Taremi venga a Milano? Lasciate le vostre opinioni e idee nei commenti qui sotto.